Ciao a tutti ragazzi, mi sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono emozionatissimo perché faremo l'ultimo video delle audiofiabbe. Quindi, qui abbiamo tutte le minifigure, come volete chiamare minifigure o minifigure. Qua abbiamo il raccoglitore 2, completo, come al solito, e anche il raccoglitore. Qui abbiamo tutte le rifiabbe. Guardate ragazzi, qui abbiamo bianca nera, qui abbiamo i zeppuccini, qui abbiamo il cappuccetto rosso, qui abbiamo un pollicino. Ragazzi, sono un pollicino, sono quattro libri perché è piccolo. Abbiamo fatto anche la storia sul canale. Pinocchia, il gatto con gli stivali, Alice e fino ad arrivare ad Aladdin. Ragazzi, un secondino prima di dire le solite cose, prima di dire iscrivetevi. Ragazzi, credete che mica sia finita qui l'avventura del mio canale? E no, perché arriveranno i pacconi delle audiofriabbe Disney, le audiofriabbe Disney e tante altre sorprese. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Vi do un bacione forte e ci vediamo alla prossima playlist. Ciao!